La sfida è nelle gambe Victoria Beckham e Kourtney Kardashian, la sfida è nelle gambe Entrambe sdraiate sul divano, luna col suo solito broncio laltra sorridente, Victoria Beckham e Kourtney Kardashian mettono in mostra il loro stacco di gamba Una sorta di spaccata, che si trasforma in una vera e propria sfida, chi vincerà, tra l'ex speech girls oggi stilista e la componente del clan Kardashian barra Jenner? La maestra e l'allieva. Che Victoria Beckham fesse super agile e snodata, era cosa nota E' stata lei, la prima a condividere sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritraeva sdraiata su di un fianco, intenta a slanciare la sua gamba formando un angolo perfetto Ma, qualche mese più tardi, ecco che sui social è spuntata una rivale. Lei è Kourtney Kardashian, 38enne stardi al passo con i Kardashians, imprenditrice e sorella di Kim e di Khloe Leggings, felpa sportiva e stivaletti dall'alto tacco a spillo, Kourtney sdraiata sul suo divano color perla, col telefono all'orecchio scrive a commento del post, Victoria, ti chiamo più tardi. Sono appena tornata dalla partita di football E Victoria, che è famosa per il suo broncio ma che ha in realtà dato prova negli anni di una grandissima, autoironia, vedere i suoi tutorial beauty per credere, non si è fatta attendere Torbante in testa e vestaglia di seta, la moglie di David Beckham si lascia fotografare con la sua celebre gamba distesa e la scarpa rosa cipria. Del resto, di quella posa da ginasta, Victoria Beckham è una vera esperta Lo scorso anno si era lasciata ritrarre così, nel soggiorno di casa, con un abito nero senza spalline e i capelli raccolti. E poi in young suit bianca e nera, insieme all'amica di sempre Eva Longoria. Flessibile, snodata e sempre con quel tocco divertente che caratterizza la maggior parte dei suoi post, la posh speech su Instagram sa come attirare l'attenzione. Riuscirà, Kourtney Kardashian, nell'intento di superare la maestra? Entrambe bellissime, Victoria Beckham e Kourtney Kardashian non potrebbero essere più diverse nel look. La stilista sembra aver fatto suo il motto le sismore, jeans skinny o a sigaretta, t-shirt bianca, blazer e immancabili pump, ed è pronta da mattina e sera. Persino in passerella a New York, agli abiti eleganti, ha preferito la sua solita maglietta bianca dal taglio ampio e maschile e i suoi adorati jeans. Eppure, anche così, è sempre chic. Quando sceglie il colore, Victoria ama il color block. E osa anche abbinamenti dalle tinte shocking. Senza sbagliare mai un colpo, complice una figura esile e un portamento regale, l'ex pop star centra sempre l'obiettivo. Courtney Kardashian, invece, pur essendo ben più sobra delle sue sorelle, ha uno stile che punta sugli opposti, è facilissimo vederla in tuta sportiva senza forme, in t-shirt maschili dallo stile rock portate come mini abiti ed è altrettanto facile vederla con abiti seconda pelle e top senza reggiseno. In comune, le due, hanno lo smisurato amore per i figli, quattro per Victoria, tre per Courtney. Ma se Vicky condivide col marito David un matrimonio lungo e felice, per la maggiore delle Kardashian non si può dire lo stesso, Scott Disick, padre dei suoi figli, si fa vedere ogni giorno con una ragazza diversa. E lei sembra voler prendere sempre più le distanze, cercando la serenità nel suo rapporto col giovane Eunice Vendiema. E lei sembra voler prendere sempre più le distanze, cercando la serenità per i figli, quattro 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 per i figli.